E va'a e moku, e moku e va'a. La canoa è un'isola, l'isola è una canoa. Ho voluto iniziare con questo detto comunemente utilizzato all'Hawaii per ricordare che il benessere collettivo, ma anche il nostro benessere individuale, dipende dalla propensione alle relazioni con l'ambiente che ci circonda, con la collaborazione con gli altri abitanti dei nostri luoghi e dalla reciprocità, dal mutualismo tra esseri umani e ambiente. Ecologie native si occupa proprio di questo, ossia di tracciare un percorso di ricerca alla scoperta del concetto di responsabilità, arrivando a capire che vi è un elemento comune a molti saperi nativi, ossia il senso di fiducia verso l'ambiente, che permette di agire e reagire ai cambiamenti climatici e nell'interazione con gli altri organismi, producendo spesso risposte variabili e sempre in negoziazione. Questo libro vi accompagnerà in un viaggio, un viaggio fatto tappe. Il primo capitolo vi introdurrà alla metodologia di ricerca, il secondo vi porterà a pensare e ragionare sul concetto scomodo di natura, il terzo vi farà scoprire la storia dell'arcipelago, una storia poco conosciuta, di un popolo usurpato, di uno stato sovrano occupato. Il corpo centrale invece è dedicato al concetto di responsabilità, culeana, tradotto come responsabilità ma anche diritto, privilegio, dovere e tutte le sue articolazioni nelle pratiche di riconnessione storico-ecologica e territoriale. Allora scoprirete forme di responsabilità storica nei confronti di un palazzo o di responsabilità ecologica nei confronti di una valle, la valle di Macua, quella che vedete in queste immagini. E per ultimo la lotta per il riconoscimento della sovranità nelle arene internazionali. Il testo Ecologie native si occupa proprio di questo, ossia di proporre forse un'alternativa che viene dai discorsi nativi, ossia quella di incentrare il discorso ambientale sulle responsabilità nei confronti dell'ambiente piuttosto che sui diritti. In base all'ecologia nativa, tutte le incarnazioni o espressioni della natura, come le rocce, gli alberi, i corpi idrici, sono animate e perciò consapevoli e capaci di interagire tra loro e con il collettivo umano. L'appoggio ecologico nativo hawaiano non riconosce l'uguaglianza delle specie viventi, ma postula uno statuto ontologico particolare per l'uomo e l'essere umano, percepito come interconnesso in una rete di connessioni con la natura, con la quale condivide la stessa genealogia, ma verso la quale ha delle responsabilità, kuleana appunto. Buona lettura.